Organizzare i grandi eventi in Italia, i grandi eventi sportivi è un'occasione importante per dimostrare quanto il nostro territorio, quanto il nostro paese, quanto le nostre città siano in grado non solo di farsi valere con le proprie squadre di pallavolo maschile o femminile, di Serie A, di Serie B, di tutte le leghe, ma di quanto il nostro paese sia in grado e affacciandosi a questa finestra, lo avete detto voi, sia bello per poter ospitare eventi importanti sportivi e non e in grado e capace di saper ospitare eventi sportivi importanti come un mondiale. Avete citato voi 40 anni fa il gabbiano d'argento? Io non c'ero, non ho potuto vedere quell'impresa perché non ero ancora nato, però a 40 anni di distanza oggi poter ospitare un altro mondiale così è importante, è un segnale importante, magari è un auspicio non dover aspettare ulteriori 40 anni per poter organizzare un altro mondiale di pallavolo, magari insieme alla Bulgaria, chi lo sa, o comunque sia insieme alla federazione un altro importante evento come quello che andremo a vivere il prossimo anno.